buongiorno a tutti e bentornati nella mia cucina tutta rosa qui per voi è sempre jazz vediamo quale sarà il fuori menù prima di tutto ovviamente la rubrica e quindi facile da cucinare questa ricetta oltre a essere molto facile da cucinare contiene letteralmente quattro ingredienti ed è veramente velocissima quindi la potete fare last minute quando avete un po di fame anche a luna di notte cioè insomma questa è una di quelle cose con cui noi siamo proprio cresciuti allora questa è una bruschetta e si chiama bruschetta con pomodoro e provola ovviamente sono appunto pane pomodori pelati provola affumicata o anche normale se non mi piace affumicata olio extravergine d'oliva sale del pepe e il basilico allora noi partiamo subito con il bruscare il nostro pane quindi mettiamo un po di olio e mettiamo il pane allora che tra le altre cose potete farlo in una padella al forno un po come vi piace il metodo più veloce insomma vedete voi comunque di base partiamo dal pane bruschettato dopo di che faremo un sugo di pelati da spezzettare proprio bello cafone con le mani dopodiché andremo a mettere basilico verso la fine della cottura mettiamo la provola affumicata e sale e pepe ovviamente per dare maggior gusto al nostro sugo di pelati e poi faremo una bella bella bruschetta che poi ovviamente dopo parleremo anche della bruschetta che ho scoperto un bel po di cose che voglio condividere con voi e che è giusto perché insomma è come ho detto un piatto rustico made in italy con veramente degli ingredienti poveri e semplici e un po di storia anche su questo piatto non ci fa male allora diciamo che sicuramente in padella ci mettiamo meno che al forno ma se il forno è preriscaldato in modalità grill vi assicuro che anche lì viene un pane meraviglioso poi questa era proprio una di quelle ricette un po antiche che risalgono un po alle ricette classiche di casa delle nostre nonne che quando non sapevi cosa fare facevi la bruschetta perché comunque di base si parte sempre da un pane raffermo comunque che si tiene tanti giorni in casa quindi già di per sé un po più duretto lo metti al forno un goccino d'olio si ravviva e viene bello bruschettato e poi insomma con quei pochi ingredienti che si avevano si poteva fare giusto anche solo sale e olio ai tempi mettono anche laio io per esempio non lo gradisco qualche pomodorino un po di finocchietto cioè nel senso quello che si trovava nella nelle proprie case nei propri frighi e si facevano queste belle bruschette sentite che bel rumore qui una volta la dovrei fare una bella puntata solamente ASMR allora qua il colore giusto della bruschetta è questo tac bene anche perché non l'avevo mai fatto oggi l'ho fatto solo per voi ok questo è proprio il rumore ah che bello e rifaccio un'altra volta bene il rumore ci piace il nostro pane è pronto quindi lo sposto qui abbasso sicuramente qui il nostro la nostra nostro piano cottura mettiamo un bel po di olio i pelati che sono belli quando li andiamo a spezzare con le mani guardate qua non è meraviglioso poi ogni tanto un po di food porn ci sta sempre bene dopo aver spezzettato leggermente i nostri pelati siamo pronti col nostro sugo anche perché ragazzi in cucina bisogna sporcarsi le mani se no che gusto c'è ok vai mettiamo i pelati così top mi lavo le mani e ora ci dedichiamo a il taglio della provola così poi nulla vieta che magari potete usare anche della scamorza bufala come meglio credete anche perché appunto è anche un po uno svuota frigo quindi di base quello che voi avete potete utilizzare aspettate che ogni tanto va anche controllato il sugo non lo abbandonate mai perché è una di quelle cose che fa proprio una velocità e facilità immensa a bruciarsi in tutto ciò io ancora non ho salato quindi cloruro di sodio a gogo anche perché man mano potete anche continuare a spezzettare ulteriormente i nostri pelati quindi continuiamo con il taglio della provola questo lo assaggiamo buonissimo buonissimo io adoro adoro la provola ok allora taglio ancora qualche fetta perfetto bene bene se volete ovviamente potete aggiungere in questo momento il pepe il pepe oppure per chi è un po' più anche del peperoncino tanto comunque come vi ho detto è molto soggettivo e sicuramente anche con un po' quello che abbiamo in casa nel frattempo voglio condividere con voi delle cose che ho scoperto sulla bruschetta allora intanto è un termine questo non lo sapevo che ha origine laziale ed abruzzese ovviamente perché il pane viene bruscato e quindi in teoria abbrustolito come abbiamo detto e fa insomma quel rumore che a noi ci piace ovviamente è una ricetta molto replicabile ma sicuramente anche un po' regionale perché magari in Toscana la fanno in un modo nel Lazio in un altro quindi è molto variabile dopodiché un'altra cosa sicuramente molto molto carina o comunque giusta da sapere è che come dicevo prima il pane essendo l'unica cosa che comunque può durare con il tempo e con i giorni era la cosa che più facilmente si riusciva a conservare e quindi questo piatto che diciamo di base prima era un po' una necessità dei contadini a oggi poi è veramente un vero e proprio antipasto della cucina made in Italy tra le altre cose è un piatto replicato in tutto il mondo e anche tradotto in tutto il mondo perché la bruschetta è un nome o un termine che viene letteralmente usato forse anche in modo sbagliato perché ditemi se c'è scritto bruschetta e voi dovete leggere bruscetta cioè no 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 è assolutamente sbagliato cioè se tu sei in un altro paese soprattutto in Francia che per esempio sono molto nazionalisti e tra le altre cose traducono tutto perché addirittura pure la pasta hanno tradotto e non puoi dire piatto di pasta ma pat che lo trovo allucinante però giustamente noi abbiamo la nostra e nostra lingua e traduciamo quello che vogliamo perché tu devi andare però a tradurre neanche a tradurre a dire in modo sbagliato un nome cioè tu ti offendi se per esempio ti chiami non lo so in qualsiasi modo e ti sbagliano il tuo nome e anche la bruschetta si offende se tu la chiami bruscetta quindi per favore tu non italiano che mi stai seguendo devi capire che non si dice bruscetta ma è bruschetta magari qui sotto ce lo scriviamo proprio bruschetta mi raccomando allora il nostro sugo è quasi pronto quindi andiamo a mettere il basilico proprio bello così come piace a me spezzettato con le mani ormai praticamente il pomodoro si spezzetta con proprio facile facile morbido e poi mettiamo la provola così perfetto ovviamente coprite con un coperchio per far sì che la tutta la provola si sciolga ma mantè cioè non troppo perché poi deve appunto mantenere la propria forma quindi prendiamo un coperchio quindi prendiamo un coperchio allora allora io non ho il coperchio adatto di questa forma ma messo così no cambiata idea possiamo usare anche l'alluminio questo ok ok olè perfetto questa la lasciamo qui leggermente diamo una piccola pulita qua al nostro tavolo che è fondamentale tra le altre cose volevo anche dirvi che oggi primo marzo si festeggia in allora ci sono due cose che si festeggiano però nella città di paolo ed è l'unica a festeggiare si festeggia la giornata internazionale contro la discriminazione di ogni genere ed è importante festeggiarla secondo me tutti i giorni perché origini entità e religione c'è bisogno letteralmente andare oltre a quello che possono essere anche gli stereotipi e non è avere un po più di rispetto e sicuramente dare anche dignità a persone che magari per appunto stereotipi per qualsiasi anche qualsiasi anche chiamiamola così legge che magari è possono discriminare delle minoranze invece noi qui a fuori menù festeggiamo anche noi oggi per tutti quelli che si possono sentire discriminati proprio perché noi invece non discriminiamo nessuno e siamo con questa giornata a mio parere bellissima ecco qui questo è quello che vi dicevo vedete allora c'è si sta sciogliendo però mantiene la sua forma ma perché questo è importante perché una volta che poi lo andremo a trasferire sul pane almeno abbiamo proprio una bella anche composizione no ok intanto prendo anche un bel piattino eccolo qui poi qualche foglia extra di basilico perché nell'impiattamento ci sta anzi le laviamo anche allora qui mettiamo le nostre fette di pane ok spengo tutto allora ci dobbiamo avvicinare il più possibile perché il rischio di sporcare è molto alto allora prima cosa mettiamo bene il sugo con anche i pezzettoni un po' rimasti del pelato ok che poi secondo me è effettivamente a parte la verdura che è un po' ammazzita mancante anche se vabbè pomodoro è un ortaggio è letteralmente un piatto completo perché abbiamo la proteina abbiamo il carboidrato il grasso vegetale che è l'olio poi abbiamo letteralmente mancherebbe una verdurina o comunque una cosa è ed è letteralmente un pasto completo con cui poter pranzare o cenare quando anche si ha poca voglia di cucinare perché letteralmente in una decina di minuti avete fatto il vostro piatto allora mettiamo sopra anche la scamorsa no questa è provola provola affumicata guardate guardate come fila ok voilà allora intanto pulisco leggermente perché un po' ha schizzato tutto il sugo ok perfetto dopo di che prendiamo le nostre foglie di basilico la mettiamo sopra così voilà allora come vi ho già detto piatto veloce facile gustoso totalmente made in italy questi sono gli ingredienti e quindi appunto pane pomodori pelati provola affumicata olio extravergine d'oliva sale pepe e basilico vi faccio vedere qui com'è guardate che bello godurioso ciccioso proprio mmm meraviglioso e assaggiamo mi sembra proprio la cosa più giusta da fare che è l'assaggio ma io assaggio direttamente dalla padella cucchiaio proprio qua a farsi male come si dice allora anche se non ho il pane cioè guardate è allucinante questa cosa tuc 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 cioè già così ti senti male dalla goduria cioè è una roba buonissima e mi raccomando replicatela ma sicuramente la replicherete perché appunto è proprio facile è veloce super gustosa può essere un antipasto come un primo main course e quindi un piatto di portata principale poi più made in italy di questo cioè i colori appunto verde bianco e rosso accompagnato il tutto da una bella bruschetta brusolita che potete scegliere di farla al forno o in padella super veloce e come ho detto veramente veramente gustosa io ovviamente adesso è ora di pranzo quindi ci sta ci sta che oddio non sapevo dove dovevo andare scusatemi ci sta e mi raccomando replicatela fatemi sapere cosa ne pensate e taggatemi se volete essere ricondivisi un bacio a tutti grazie ancora e buon pranzo ciao 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 agosto ciao ciao ciao